c'è ciccia però fa abbastanza cagare con non morti ma no ci sono murlock in però aspetta non avevo letto murlock mi sa che provo ciccia quasi non ci sono pirati però qua e quindi nirli c'è meno roba però secondo me comunque thamsin e piramatta non penso tu li pigli quindi proviamo ciccia c'è poca armor più che altro serve trovare il battlecrate troviamo la 21 che dal coin siamo a nozze frate twitch chat vediamo se facciamo meglio peggio della twitch chat chiara vabbè almeno c'è un murlock non c'era la naga del gold che era meglio ma mi sembra la misplay ma prendiamo 223 no gioco spell prima piglio 23 faccio capire stavo pensando che poi se la spella potevamo tenere lì e dici per frizzarla 15 è no però tu comunque che poi si riesce la naga come ultimo pezzo per capire però c'è però capito qual è il discorso che certi perdi due ipotetici pezzi si frizzi per il roll della naga no quindi si fatte qualcosa lo troviamo naga livelli amici ok c'è naga che ottimo posso prendere naga faccio capire prendendo anche la scuola si sembra forte mi sembra not bad ma siamo andati a naga e siamo tutti felici mamma mia che scherzo quello potete né non è male busciare qualche danno in più mamma mia che cattiveria che cattiveria no vabbè però anche lì vede lì è lì anche lì è stile di gioco c'è chi holda di più e chi gioca di più guardando un po in giro mi piace giocare mi piace giocare molto più 6 vabbè qui non è la questione di daniel sì sì no il discorso seifer ha riferito al alla scelta della quest a t3 cioè che magari appunto mi piace molto più vero il prendere la quest tempo rispetto al ciao ma allora qua tutto bene grazie tutto posto tutto a posto però è tempo via bologna fa schifo ma no no oggi oggi era terribile c'è moglio qua non c'è nessuna finestra aperta dove strimo nella stanza però stamattina c'erano delle nuvole che mai visto una roba del il vento piove l'hp livello hp su cosa compri l'elementale ora vedi l'elementale non so se giocare lui ha livellato no non lo giochi mai l'elementale sì sì non lo giochi mai strano che lui abbia fatto free on free con sto eroe oltretutto molto piano è terribile fare free on free con sto eroe è una delle robe più brutte che ho mai visto cos'è free on free con re dei ratti ragazzi che è sta roba anche perché poi ti sminchi anche tu ogni dopo cioè no vuoi che sia buono secondo me più che altro cioè fai come se anche c'è una taverna scena fai capi e compri un pezzo scena però comunque contenta lui no non è che piove da due giorni che stamattina ho guardato fuori e c'era 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 tipo un vento fortissimo che le finestre che mezzate romano quello intendo 5 murlocoverri che schifo sto voglio c'è left fa merda secondo me qua left fa schifo o c'ente o all right questo è evidente evoca 20 si fa anche 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 c'entra si fa ovviamente abbiamo due due cose 221 dai mid forse meglio io prenderei mid vendi mid forse compri 2 1 1 1 allora intanto gioco il vendimentale la domanda è voglio perché posso anche tirappare faccio capi su 221 vendi 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 moneta moneta 21 sì come abbastanza forte sicuramente la domanda è 2 4 o 5 6 7 pezzi il turno dopo la finiamo ma finiamo se maeste o minchia 221 vabbè 221 la cosa buona è che comunque tu la quest la finisci nel combattimento e poi ti si attiva subito si no vabbè dico la finiamo se troviamo un altro pezzo che spona qualcosa lo dovremo finire il turno dopo insomma come fai devi anche quello che te li spacca tutti quei pezzi vabbè quello si non è che sia straforti su bordo intanto no in realtà qua già qui non devi fare che te metti di ottimo non puoi avere va bene questo è terribile qua infatti assurdo 2 1 copia però anche qua in namusa questa qua non è terribile questo hp a me piace piace tutto il setup cinghiale onestamente farei compio 2 1 come fai qua no puoi comprare queste due compri spell e fai hp sulla 2 1 e basta può essere la migliore sì secondo me è la meglio cominciava a fare le gemme ti tieni la moneta che poi ti viene a terra mutata cioè il punto è la spell appunto la gioco cioè perché magari se mi mangia la spell è meglio della moneta in sto caso dire più 3 più 3 per la spell non è fare malissimo io la giocherei sul cinghiale 3 3 lo tengo in fondo per la cinghialone si si 23 di febbraio albero di natale acceso ok e quindi cosa c'è che non va ehh kytor cos'è che ti infastidisci di ciò? spiegami per capire se lo chiedi è un po' aggressivo però no non capisco lo scrive con un tono come per dire boh no ma poi non è sub ok allora l'hai fatto bene eh no chiaramente quello è ovvio cioè no per l'amore del cielo con un tono ha scritto con un tono eh 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 weiss allora eh beh ho capito eh va bene ragazzi madonna eh livello 5.1 non è male no secondo me sì dai livello vendo l'elementale marcio vendo l'elementale marcio via sì sì la domanda è stavo pensando ai pantaloni gli vogliamo mettere i pantaloni sulla quanna musa? no ormai no cioè più che altro cosa devo fare? cioè faccio HP qua uso la spella faccio quello però dopo hold una gemma quindi quello mi affoglia eh però è worth cioè tanto non lo so non lo so non lo so forse no tanto sono 5.1 non è che vogliono lo stesso c'è la c'è da dire che se lo triplo è quella la questione quindi forse ci sta scoino quello e dai hold una gemma hold una gemma queste le gioco sempre su io farei questo cinghiale qua tanto il resto sì vabbè è quello tanto è a 4 pezzi si muoiono per forza sì sì no infatti dico posso anche metterlo più avanti lui no ora sai cosa sarebbe fighissimo se la quest ora fai la quest e poi in turno ti viene la quest quella del masso rotolante che poi si baffano con vendetta o è te bellissimo un experience pazzesca ma comunque volevo prendere una luce da tenere di dietro solo che sono aumentato un casino le Philips Hue c'è la luce da terra Philips Hue che costa 390 euro quindi ho detto allora tengo l'albero no c'è una durata di ganchietti dente lo parlavamo inizial e lo parlavamo questo è enorme oh che bella è comunque la quest che cambia ogni turno è fighissima un sacco esotica o tripla vedi che sei stato rewardato per lì come funziona questa non si procca però è fighissima vabbè l'altra fa cagare dai si l'altra fa schifo quindi allora questione dovete reply ciao viz ehi fatti che fai la sei è fico si minchia però ci vado già sotto il cap oddio non lo so se vado sotto il cap fai hps 2 1 vendi 2 1 vendi 3 4 a livelli per metter un po' clean dobbiamo giocare aggressive cioè boh questo è lo spot dove ci sta provare a giocare aggressive più che altro se lo fai qua poi il no 7 3 poi vedi vedi che teori valuardo per forza ah e di ai valuardo si valuardo game interessante baluardo game tiro un paio di spell sul baluardo eh si l'hai provato l'hai provato il cinghiale che secondo me fortissimo il nuovo cinghiale quello taverna 6 che è capitato che ora ha due spell dici ma questo ma questo è orrendo cioè come fa ad avere sta roba ancora taverna 3 non lo so come fa che gli è successo a lui io avrei preso rock eh però non sai contro chi vai se prendi rock lì vai sotto il cap cioè con baluardo sei molto più fatti tempo non puoi prendere rock lì cioè poi chiaro questa era così su board però non lo puoi sapere prima in questi discorsi rimini un bat carina inaz 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 c'è pazzesco ma non male questa roba uh le magie due volte ne discorrivi una che cazzo è sta roba cioè il punto è che rollo per bernan prima secondo me al volo sì sì rollo per bernan uh quella forte ah no però non funziona ah sì funziona 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 te la swap poi nello shop vai vai eh però dopo ridiscovero quindi la piglio no si rollo roll cazzo il disco vabbè vai vai il disco vabbè ah è vero sì 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 è vero cosa piglio roccia rock forse ora il cinghiale lo dobbiamo provare sì suone forte il cinghiale no 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 è vero è vero ora che l'hanno fatto vai tiro lei qua devo darmi una mossa prendo tracodanza dai tanto qua se lo sgravo no dopo più gold e la questione è procco anche il suo hp penso giusto sì ok buono adesso non ci sto capendo nulla ragazzi è infattibile sta roba lo scambio devi compri la 3-1 come compri la 3-1 elementale si si scambio la 3-4 no si scambio la 3-4 ok vendo 3-1 2-6 anzi no vendo questa questa sicuro via uso coin ripiglio la 4 mica qua rischiate vero perché tirate le spell tu effetti di fine turno distruggere un morto sostituisce forse no anzi effetti di fine turno che c'è cosa eeeh ma in realtà vendo lui e rollo no sto fermo forse stai fermo effetti di fine turno forse giocali baffi un po' quei due pezzi c'era bravo eh vabbè effetti turno complicato però fico un sacco di sacco di non sei neanche diventato così forte si avevano più taunt vabbè non si sono diventati forti perché stiamo dando anche spell o altro dopo questo qua fa secondo me sì 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 quello sì non so potevamo fare di più probabilmente sì però eh ci si sta provando roba vediamo andiamo a dare un paio di taunt sì un paio di taunt in più quanto le gemme comunque non sei datta oh cazzo questa rotta eh eh prendiamo la ricompensa proviamo qualcosa da comprare ma si dai per forza potremmo anche livellare qua livelliamo sicuro c'è un roll gold roll roll again no sì ragazzi finisco questo bran doppio eh sì per forza mettiamo tutte le gemme prima tutte le gemme squadre 5 vai muoviti adesso e compri anche i pantaloni i pantaloni sono forti perché è down no taunt sì sì tanto devo tirare ste cazzo di spell altrimenti non le uso più porca troia dai pantaloni a qualcuno mi piaceva di più però va bene lo stesso lo do forse a brann tanto brann lo tengo giù roll direi eh vabbè c'era rogogug ma sti cazzi non so neanche si prende il melmosino è foiettissimo la 4 a 2 è foiettissima sì avendo lui sicuro questo lo vendo rogogug secondo te è così buono da pigliare non lo so melmosino sicuro melmosino è sgravissimo melmosino è sgravissimo perché c'è la quell'altro che è solo con le spell no quindi a questo punto io tonta unterai tutto quasi qua perché tanto ti senti una spell per mangiare con melmosino e via sì gioco lui a rollo no sì draccari potevo forse vendere tre per l'elegem freeze freeze questo non è freeze perché c'hai il lanaga che sono due spell quindi è geatis e mangi geatis no vabbè secondo me rogogug era mezza merda lì abbiamo non lo so non era malissimo probabilmente perché noi adesso dobbiamo togliere il cavalcalupi indubbiamente questo fa merda via allora qua prendi draccari lo prendo direi no draccari lo prendo e prendo 3-1 e anche la naga 2-1 sicuramente non era il rogogug strabuono che si piglia di solito era closely insomma questo discorso anche corna musona togli bah vediamo corna musona aspetta sì infatti c'hai due pezzi da togliere sì sì no c'è di peggio c'è di peggio oltre al battle cry oltre al battle cry devi togliere dei pezzi allora vendo sicuro 2-3 subito no ok allora andiamo 2-3 allora occasionalmente secondo me left no bo delta diet compri tre pezzi di akari 5-4 6-4 ma capì la fai sulla 6-4 sempre no quindi giochiamo subito 6-4 ci facciamo a capire quelli cerca di mangiarli subito gioca a naga cioè il punto è che questo lo voglio prendere perché mi può dare un botto di gold compro 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 prima di mangiare mangi quella e rolli oh madre e vendi 30-28 e te li vado con l'affare quanto siamo esotici buddista questa roba è disgustosa quanto siamo esotici oh secondo me il cinghiale è una bontà si è fortissimo sta roba il discorso è che secondo me dobbiamo vendere poi 20-15 una certa o l'altra così almeno abbiamo i buff sui pezzi fissi però siamo tu e noi vendiamo 20-15 dai qua trovi il cinghiale di akari giochi una gemma sola che forse la farei su vabbè la faccio su bran la faccio merda che cuore sto game signori che partita è ragazzi questa questa è big io al bandito e si vola ma non si è messi male cioè stiamo a t10 a t10 è forte sta roba cioè è fortissima sta roba t10 è abbastanza forte comunque è fortissimo il cinghiale con due spell è forte cioè questa che rimuove le stats però secondo me è una frizzata però non è forte cioè è vero che dà un po' di stats sì ma bianbran giù cioè quindi trovi delle spell a costo zero e ti riesce molto meglio questo c'è appena no siamo a 99 noi ma veramente siamo così forti ho visto tutti i non morti dorati dico boh cioè non mi spacco un pezzo i non morti sono più potevoli merda che cuore ragazzi sto game tutto grazie all'albero dietro la partita fenomenale già lo sai già lo sai assolutamente sì allora dopo che hai giocato un servitore più uno più negli servitori della stessa tipo medaglione 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 la 8-8 la prenderei via 28-23 la 8-8 la piglio sicuro vero spino per forza non prenderei la spell io rollerei no 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 devi trovare dei battlecran questa è buona questa è molto buona rinvieni battlecran per forza molto buono razziatore procca due volte con l'hp però forse è meglio il collezionista sì sì vendo lui intanto gioco un paio di gemme a caso qua ok collezionista faccio capì sul collezionista no forse no sì è uguale poi anche rollare vedi un po' l'importante è che finisci il turno quindi muovi gioco le carte 5-10 gold ma spero lo romperà tanto è anche dei hkai se lo fai a mangiare zappo o la cd porca troia roll no quasi oh mamma dai vai muoviti anche la spela 2 è frettissima questo è rauldo perché non mangio nulla se lo chido branl all the ray no sì rai eh tu e no è interessante lui piossa oh questo è carino la trappola del beddy la trappola del beddy questo la chiamiamo questo è un bel diapolone sì ben giocato qua script a nostro favore for once cazzo qua almeno script ora abbiamo spazio però considera che possiamo togliere con una musona poi boh schifo prendo una casa prendo le case finisi magica rende dorato un tuo servitore fino al turno successivo illegale muovi una cosa che te lo guarda eh sì brandorato subito senza neanche pensarci faccio brandorato qua devo discoverar cose questo lo triplo voglio qualcosa frizz intanto tiro questa come è rolli qua c'è si è rolli si 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 oh metti tante la mantide c'è il giocato di 10-12 prima madonna non so se conviene fai HP forse meglio su di lui eh anche su questo forte questo c'è un brandorato eh forse no meglio su questo ecco è molto close comunque è molto close è close perché questo prende un sacco di stats io lo farei su lui dopo il roll cioè vai dopo il roll uguale però sì eh questo brandorato lo devo pigliare perché poi c'è anche la 11-10 che è più fortissima questo roll questo tutto diventa mille mille ma che cuore abbiamo cioè dopo dobbiamo dare ah che non ci sono dei moni in cazzo perché dico altrimenti c'è la star però non c'è però non dobbiamo vendere giocare il video elementale attivare il video elementale no prendere beanne giocare il video elementale allora dobbiamo il triplarbrano prender lui e far HP sul demone che baffa in taverna no? eh sì ma questo lo disinte cioè non lo so però non so come ti ragione il 500-500 matto dopo potresti avere la spell dorata sì potresti avere la spell dorata di nuovo dovrebbe funzionare così c'è il maestello se lo ridà sì sì lo so eh però lo faccio tipo su derakari questo vediamo sì lo farai su derakari perché brando triplo così ce l'ho fisso triplo è meglio non c'è quella cosa non muove mai dai stecca la cazzo poveretto doveva baffare le gemme perderemo per niente quella che baffa le gemme in salute quella che è stata buonetta 1v1 allora triplo brando allora lancia meglio questa perché è bella devo forse comprare prima sai che potrei aver fatto una cazzata eh prendo chargla no con draccari minchia draccari triplo piglio lui sicuro e prenderei anche il 10-12 a sto punto sono tanti baffi faccio questo e gli faccio hp sopra esatto e poi è così buono fare a capire su questo in realtà c'è non lo so poi se poteva anche aspettare questa è rotta madonna questa è fortissima quella è fortissima allora potrei tirare a fine turno cioè cosa fa voglio fare rollo quasi quasi giusto perché così gioco lui vedo cosa mi dà dopo questo gioco chargla roberotto peccato eh cosa tu devi mangiare fai frizzy cioè vendi un pezzo giochi il town te lo vendi vedo cosa mangio più che altro con le spell perché io le spell tirerei non è che starei a gridare più che altro lo do a stealth a lui magari è worth dar stealth a questo non è fuori te la rispetta a questo punto forse rollo cioè non lo so se è worth frizzare mantide mantide non è buonissimo l'ho detto questa roba sì forse questa roba è face per farza perché c'è l'elementale con bianthe sì e più che altro c'è anche la 1-1 che ci può dare le spell di che altro con dracari dorato abbiamo infinito buff l'attacco qui questo è grosso infatti 90% per lui ah è vero c'ha 600 600 è una 606 più che altro la sua di un shield out la mia no ci ha steccato 5 magie a caso dai 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 ludopatia bro oh madre se me lo faceva su uno dei miei mi cazzo ti immagina ma era questa è stata molto rischiosa devo dire effettivamente le tue vengono lanciate le magie doppie magie doppie che te frega gioca tutto è capitolo elementale che te frega minchia oh madre dobbiamo giocare le spell dopo ma il punto è che non c'è il tempo per fare questo è tipo un matador per chiudere la spell a due è buonissimo ti dà 6 spell per l'amore del cielo boh sto tirando roba a casa io perché tanto il team la 24 26 pensa comprala così che tieni in mano non ce la faccio più non si capisce un cazzo comprala spell a due comprala spell a due gioca gioca tutte le robe eh infatti che delirio eh non me le tira abbiamo fatto quello che dovevamo fare più veloci di così non so se lui basta per non morire ma lui infatti ora abbiamo 86 di litte a noi questo è enorme il problema è questa cioè deve morirla va bene va bene va bene dai merda il mattone ma che cuore che cuore che cuore che cuore che cuore che cuore Grazie per la visione